Ho scelto di portare l'identità come argomento centrale all'esame finale. L'identità io la rappresento come una bilanza che sostiene l'essere e l'apparire. Per apparire basta poco, si è gruppo, la propria identità si dissolve e si omologa in quella del gruppo. Per essere devi lottare, si è parte di un gruppo, si mantiene la propria identità. Per essere ci vuole coraggio. E Dio ci ha approvato. En un'epoca in cui la consegna è desaparecer, le redi sociali serve come una realtà filtrata, empaquetata per mostrare lo miglior di si stesso, per presumire di quello che si tiene e a volte per rappresentare una vita quotidiana artificiale. In l'era digital, in cui gli useri compiti per vedere chi consigne più seguitori, likes, influencers e conocitori, molti giovani sienten il peso di sua reputazione sociale e a menudo misi capacità e ajustano la autoestima in funzione dei seguitori che consigne in internet. Per esso è importante non creer in tutto lo che si sube in le redes sociali perché non sempre si corrisponde con la realtà e non devemos olvidare i numerosi pericoli che existano in la red, come il ciberacoso, il ruolo di identità, la estafazione, eccetera. La definizione di ciberacoso è più complessa già che, per sua naturalezza, il ciberacosatore non ha una confrontazione reale con la sua víctima e non ha limiti a espacios temporali per applicare le sue strategie di perturbazione e denigrazione. Adesso, il acoso in linea perdura nel tempo è immediatamente visibile per mille di usuario che possono essere compartiti innumerabili volte. Il ciberacoso è definito come tutto atto che attenta contro la dignità di una persona a travesse della red con frasi, immagini, calumni e difondite in plataformas difamatorias e la pubblicazione di materiali ajeno senza consentimento. Il desarrollo del fenomeno a travesse della red fa più difficile il trattamento, specialmente nella identificazione del ciberacoso. Prevenire il ciberacoso è, ante tutto, una tarea della famiglia e della scuola. L'adulto deve prestar attenzione al comportamento dei bambini e alla forma in cui utilizzano internet, insegnandolas a distinguir quando e come la red può tenere conseguenze in la realtà. Per evitare che i bambini entri in questa pericosa voragine, i bambini devono stabilire un dialogo constructivo e continuo con loro. L'adolescente è stato evoluzionato, per lo che lavorare con loro non sempre è facile, però con l'attenzione adeguata potrebbero abrarsi e confiare sui problemi. Inoltre la comunicazione deve educare ai bambini e ai bambini e ai bambini e ai bambini per fare un uso consciente dell'internet, per che gestione la sua privacità e soprattutto per che denuncien qualche comportamento violento del che sia testigos o victimis. A lo largo dei ultimi anni, diversi bambini hanno stato vittime del acoso escolar, che è una forma di maltrato psicologico, verbal o fisico produzione tra i proprii scolari di forma reiterata a lo largo di un tempo determinato. Bueno, le vittime in sua maggioranza sono adolescenti di 12 e 14 anni. Este mes si vio a conoscere il trágico suicidio di Amanda Todd, che un giorno prima di sua morte pubblica questo video. Vamos a vedere. Amanda era una adolescente di 15 anni che fu a conoscere il ciberbullying. Se riunía con desconocidos a través di una camera web e uno di loro se le sacò fotos dei pechos e se las inviò a sus amigos. Amanda sufrió numerose attaques di pánico, ansiedad, depresione e impuso a abusar del alcohol e le drogas. Cambio di ciudad e di escuela. Il individuo creò una pagina di Facebook con le foto della chica come immagine di perfil, per lo che sus nuovi companiari empezaron a jugarla e si vio obligato a cambiare de jolejo di nuovo, donde se encontró con un viejo amigo che le ofreciò tener sexo con ella mentre su novia estaba de vacancias. Su novia e altri chicos la atacaron e ella intentò suicidarsi per prima vez trajando lejia. Se traslato a otra ciudad per vivere con su madre. Su estado di salute se deteriorò e la encontraron muerta in sua casa. Antes di sua morte, subió un video a YouTube contando su historia. No hay que demoniar las redes sociales perché è certo che hai molti peligros asociati a ellas, però també è certo che le opportunità che ofrecen tanto a los adolescentes come a los adultos sono igual de numerosas. Nelson Mandela was born on 18th July 1918 in Dezo. He studied law and became a lawyer and helped the poor with legal problems. He also joined the ANAC, African National Congress, which tried to eliminate apartheid and give equal rights to black people in South Africa. Apartheid was a racial segregation system used in South Africa from 1948 to 1994. It divided white people from the rest of the Africans no matter if they were black, Asiatic or of misereys. The whites were a minority but had political power and lived a rich life separate from the poor. The black majority, who had no political powers. These separate lives mean there couldn't be much vendings, missed a skill, public balance or transport and that only the whites had the right to vote. In 1960, the government blamed the ANAC for the shootings and in 1962, Mandela was arrested again with the charge of having trade to overthrow the government and sentenced to life in prison. He spent 27 years behind bars in several prisons and finally, in 1990, President De Krak freed Mandela. In 1993, won the Nobel Peace Prize. In 1994, black Africans could finally vote for the first time and in the general election, the ANAC won and unnamed Nelson Mandela as the first black president of South Africa. He died on 5th December 2013, the 18th July is Nelson Mandela International Day. No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today La donna vittima dell'amore Il mio libro Elena Chauvet l'artista messicana divenuta il simbolo della lotta alla violenza sulle donne che nel 2009 a Jujarex la città dove la prima volta è stato usato il termine femminicidio presentò il suo progetto Zapatos Rojos per l'appunto Scarpe Rosse in strada nelle piazze nelle scuole e nei palazzi del potere Le opere di Elina sono un racconto terribile estruggente di un messico dilaniato da una violenza per noi immaginabile una violenza frutto di taciti accordi tra narcotraffico e potere che cancella ogni giorno le vite di uomini e donne e so poco più che bambini la cui unica colpa è resistere a una quotidianità molto complicata Eleonora d'Arborea rappresenta uno dei principali personaggi della storia sarda e grande donna del medioevo italiano la sua figura si trova a metà tra la storia e la leggenda viene definita soprattutto dai sardi come una grande eroina la patriota che dette la sua stessa vita per amore della sua terra donna fiera e bellissima Eleonora era pronta a riordino della Sardegna in un'epoca di sanguinosi conflitti una donna difeso nelle sue leggi i diritti delle donne contro la violenza e la diversità per l'emancipazione e l'uguaglianza si impegnò a difendere la sovranità e i confini del giudicato d'Arborea ma soprattutto si prodigò nella sistemazione degli ordinamenti e degli istituti giuridici locali ordinando definitivamente la carta del luogo d'Arborea promulgata già ai tempi del padre la carta del luogo era una raccolta di leggi e di usi giuridici locali che comprendeva 198 capitoli su norme di diritto civile e penale e si prefigge di regolare in modo chiaro i vari settori della vita dei cittadini Artemisia Gentileschi fu una vittrice barocca del XVI secolo come per molte altre donne nella storia dell'arte il suo nome cade nell'oblio per diversi anni storici e collezionisti attribuirono le opere della Gentileschi ad artisti uomini la vita e l'opera di Artemisia Gentileschi esemplificano il forte maschilismo del XVI secolo nel 1611 Orazio venne incaricato di decorare il palazzo Pallavicini e lo Spiosi a Roma insieme al pittore Agostino Tassi con l'intenzione di agevolare Artemisia che allora aveva 17 anni nel perfezionamento della tecnica pittorica ingaggiò a Tassi per aiutarla questo diede a Tassi la possibilità di trovarsi spesso solo con Artemisia e durante una delle lezioni di pittura abusò di lei dopo lo stupro Artemisia inizia una relazione con l'uomo credendo che si sarebbero sposati tuttavia poco tempo dopo Tassi si rifiutò di sposarla Orazio prese la decisione di denunciarlo per stupro avviando un processo che durò ben sette mesi Artemisia era vergine al momento dello stupro il processo rivelò altri dettagli sconcertanti come le diverse accuse nei confronti di Tassi sull'assassinio della prima moglie come parte di un procedimento giudiziario Artemisia dovette sottoporsi a un esame ginecologico per dimostrare di aver perso la verginità al momento dello stupro inoltre fu costretta a testimoniare sotto tortura al fine di dimostrare la veridicità delle sue dichiarazioni per un artista questa esperienza avrebbero potuto essere devastanti ma per fortuna Artemisia non riportò danni permanenti alle dita ci sono vite che sembrano venute fuori da un romanzo in cui il genio la follia la passione la malinconia e la malattia compongono una melodia immortale lui è bello dotato di grande talento ma molto povero in una Parigi ricca di grandi artisti e di notte da vivere senza alcuna ricchezza se non la passione e la fama di vita vissuta tra grandi bevute amicizie profonde e belle donne è per questo suo modo di intendere l'esistenza che molti amano Modigliani ma non è questo ciò che l'ha reso immortale i suoi ritratti languidi e per i suoi colli sinuosi e quelli occhi a cui ha tolto l'età i ritratti di Modigliani colpiscono per la capacità di catturare con pochi semplici tratti l'essenza dei suoi soggetti arricchendola di un'eleganza senza tempo pare che Modigliani dove si era trasferita a soli 21 anni il 24 gennaio 1920 soprannominato Modig o Dedo è uno dei più importanti artisti italiani del novecento pittore e scultore Modigliani è considerato l'icona dell'artista romantico e maledetto il suo soprannome Modig dalle prime lettere del suo cognome ma la cui pronuncia assomiglia alla parola francese Modig cioè maledetto la prima mostra di Modigliani nel 1917 durò solo poche ore perché il capo della polizia di Parigi scandalizzato dai celebre inuti distesi ritratti dall'artista decide di farla chiudere per oscenità Modigliani muore a solo 36 anni a causa di una meningite tubercolotica lo trovano agonizzante nel letto i suoi vicini di casa aggrappato a Jeanne Evitern la giovane moglie al nono mese di gravidanza i compagni fanno una colletta per pagargli le sequie alla notizia della morte dell'amato Jeanne si suicida lanciandosi nel vuoto uccidendo se stessa e il figlio che porta in grembo avete mai amato così profondamente da condannare voi stessi all'inferno per l'eternità io l'ho fatto lo canticchiamo tutti ma pochi conoscono il testo integrale e cosa significa realmente l'inno di Mameli il vero titolo dell'inno di Mameli conosciuto anche come l'inno d'Italia è in realtà canto degli italiani questo testo musicato è l'inno nazionale d'Italia dall'ottobre del 1946 l'inno d'Italia però è stato scritto nel 1847 un secolo prima dallo studente patriota genovese Goffredo Mameli e musicato nello stesso anno a Torino da Michele Novaro nel 1848 l'Italia era ancora divisa in sette stati regno delle due Sicilie stato pontificio regno di Sardegna granducato di Toscana regno lombardo veneto ducato di Parma e ducato di Modena il tema principale è il forte desiderio di ribellarsi all'oppressione straniera e raccogliersi sotto un'unica bandiera creare uno stato unico l'identità nazionale della musica italiana nel mondo è Ennio Morricone compositore e direttore d'orchestra come pochi nella storia per i musicisti di ogni genere e lingua è semplicemente il maestro nato a Roma il 10 novembre 1928 all'elementare si ritrova come compagno di classe un certo Sergio Leone con il quale più tardi scrive un pezzo di storia del cinema firma le colonne sonore di più di 500 film porta le sue sinfonie in giro per il mondo dimostrando uguale abilità come direttore d'orchestra nel 2007 gli viene riconosciuto l'oscar alla carriera e mette in bacheca nove davidi donatello un leone d'oro alla carriera nel 1995 muore a Roma il 6 luglio 2020 per le conseguenze di una caduta con frattura del femore l'auditorium parco della musica grande struttura progettata da Renzo Piano dal 6 luglio 2021 porta il nome di Ennio Morricone energia geotermica l'energia geotermica è l'energia termica generata e conservata all'interno del pianeta terra è rinnovabile e pertanto rientra nell'obiettivo numero 7 dell'agenda 2030 la geotermia sfrutta il calore presente nella crosta e nel sottosuolo del pianeta per produrre energia elettrica il calore della terra che viene utilizzato per produrre l'energia geotermica è figlio di fenomeni naturali presenti nel nostro pianeta suggestivi e spettacolari le manifestazioni naturali di geotermia principalmente note appartengono principalmente ai vulcani alle fumarole e ai geyser i geyser sono potenti getti di acqua calda mista a vapore che escono periodicamente da sorgenti termali strettamente imparentati con i vulcani sono manifestazioni secondare dell'attività del magma centrale geotermica nella centrale geotermica il calore arriva attraverso dei tubi chiamati vapor dotti nella torre di raffreddamento in cemento alta 100 metri il vapore viene ricondensato in acqua e rimesso nella terra luigi pirandello figura di grande rilievo nel panorama della letteratura italiana del novecento luigi pirandello ha dato il suo contributo in diversi campi egli è stato infatti drammaturgo scrittore e poeta per il suo impegno profuso nelle arti letterarie è stato insegnito del premio nobel per la letteratura del 1934 per luigi pirandello le maschere rappresentano la frantumazione dell'io in identità molteplici e di un adattamento dell'individuo sulla base del contesto e della situazione sociale in cui si trova pirandello faceva la distinzione tra l'essere e l'apparire di ciascun uomo poetica l'opera di pirandello rappresenta in modo molto efficace la crisi dell'uomo moderno e i radicali cambiamenti della società la fine di un lungo periodo di pace la carneficina della prima guerra mondiale con l'annientamento di una generazione la fine della supremazia europea nella storia del mondo si diffuse una visione pessimistica della vita in molte opere letterarie affiorano i temi della solitudine e delle difficoltà dell'uomo a inserirsi in una società sempre più disumana e massificata in questo periodo l'opera di pirandello rappresenta molto bene le contraddizioni della società di quel periodo il suo obiettivo era quello di smascherare le apparenze le esteriorità di scavare nella vita degli uomini per coglierne le complessità quella di pirandello è una costante ricerca di identità i suoi romanzi le sue novelle le sue opere teatrali riflettono la crisi dell'uomo moderno e la sua insicurezza che derivano dall'incapacità di riconoscersi in un'identità unitaria e immutabile l'uomo si interroga su se stesso e non è in grado di dare risposte definite e consolatorie riflette sul suo destino consapevole della difficoltà di dare un senso alla propria vita tra le sue opere quelle che meglio rappresentano queste tematiche sono il fumattia pascal uno nessuno centomila e sei personaggi in cerca d'autore la vita e le opere Pirandello nacque nel 1867 in Sicilia a Girgenti oggi a Grigento dove la famiglia si era rifugiata per sfuggire al colera studiò prima a Palermo poi a Roma ed infine a Boston sposò Antoniente a Portulano che dopo aver dato alla luce tre figli manifestò i sintomi di una malattia mentale fino a dover essere internata in una clinica per malati psicatrici questo dramma accompagnò Pirandello per tutta la vita e influenzò le sue opere il successo sbocciò solamente nel 1922 con le sue opere teatrali e fondò la compagnia del teatro d'arte di Roma nel 1934 dopo essere divenuto il drammaturgo più famoso del mondo ricevette il premio Nobel per la letteratura autore anche di opere che ancora oggi vengono rappresentate nei teatri di tutto il mondo morì nel 1936 in seguito ad una polmonite uno nessuno centomila Vitangelo Moscarda detto Genge è un uomo benestante che vive nel paese di Richieri una mattina sua moglie d'Ida gli fa un'osservazione in sé innocua ma che lo fa sprofondare in una profonda crisi esistenziale la donna infatti gli fa scoprire una lieve pendenza del naso un piccolo difetto di cui egli non aveva a conoscenza si accorge così che lui pensava di conoscersi e di sapere chi fosse ma non è così gli altri vedono in lui una moltitudine di difetti e di caratteristiche ma di cui lui non è a conoscenza lui non è uno come credeva di essere ma è centomila ogni persona con cui entra in contatto lo vede in modo molto diverso il suo io è fratturato in una infinità di maschere in cui lui non si riconosce solo povero creduto pazzo da tutti vitangelo in qualche modo ne esce vincitore ora non è più costretto a essere qualcuno può essere nessuno rifiutare ogni identità e rinnegare il suo stesso nome abbandonarsi allo scorrere puro dell'essere e disgregarsi nella natura vivendo attimo per attimo senza cristallizzarsi in nessuna maschera ora è nuvola ora è vento ora albero oggi non so chi sono ieri nemmeno tra tutte le persone solo tu mi conosci davvero quanto è difficile riuscire a camminare senza farsi male quando sulle spalle un mondo intero le tre leggi della genetica di Gregor Mendel la branca della biologia che studia il materiale ereditario le sue modalità di trasmissione e variazione da una generazione all'altra si chiama genetica molto tempo prima della scoperta del DNA e dei cromosomi uno studioso aveva individuato le leggi dell'ereditarietà cioè i meccanismi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditati dai genitori ai figli lo studioso era Gregor Mendel a base di un monasterio in Bohemia nell'attuale Repubblica Ceca che formulò tre leggi che ancora oggi sono alla base della genetica Mendel aveva studiato migliaia di piante di pisello e scelse questa pianta per diversi motivi ha un ciclo vitale breve perciò in poco tempo poteva osservare molte generazioni produce un grande numero di semi e ciò gli permise di lavorare su grandi numeri e di utilizzare le leggi della probabilità presenta sette caratteri osservabili per esempio il colore del fiore bianco-rosso il colore del seme giallo-verde la forma del seme liscia e rugosa si riproduce per autoimpollinazione cioè il polline prodotto da un fiore può fecondare l'ovulo dello stesso fiore possiede un fiore ermafrodita che porta entrambi gli organi sessuali prima di tutto Mendel selezionò delle linee pure per ciascun carattere in pratica fese germinare i semi acquistati e lasciò che si autoimpollinassero gli organismi di questo tipo in genetica rappresentano le cosiddette linee parentali pure e vengono siglate con la P maiuscola una volta che i fiori delle piante con il carattere antagonista erano maturi vennero prese le antere furono cosparsi di polline gli stigmi dei fiori appartenenti all'altra linea parentale ciò viene detta impollinazione incrociata e porta alla formazione degli ibridi sulle piante che risultavano da questa impollinazione cioè la prima generazione Mendel vide che si manifestava un solo carattere cioè P prima generazione parentale dal primo incrocio ottenne migliaia di piante figlie che indicò con la sigla F1 le piante della prima generazione sono dette ibridi cioè individui in cui i genitori appartengono a due varietà diversi della stessa specie e osservò che incrociando due linee pure nella prima generazione compariva soltanto uno dei due caratteri alternativi che chiamò dominanti i caratteri che si manifestano nella prima generazione e recessivi i caratteri che si nascondono cioè che non si manifestano Mendel formula quindi la sua prima legge detta legge della dominanza dei caratteri da questa prima parte della sperimentazione deriva al principio della dominanza in un incrocio tra due linee pure si ottengono ibridi che manifestano una sola variante detta dominante per capire che fine avesse fatto il carattere antagonista Mendel fece autoimpollinare le piante della prima generazione egli vide che le caratteristiche scomparse nella prima generazione riapparivano in minima parte nella seconda generazione sempre nello stesso rapporto 3 a 1 circa il carattere che compare al 25% nella seconda generazione viene detto recessivo queste osservazioni costituiscono la base della seconda legge di Mendel detta la legge della segregazione degli ibridi che afferma che nell'incrocio fra gli individui ibridi nascono sia individui con carattere dominante sia individui con carattere recessivo ogni carattere è controllato da coppie di unità fisiche distinte che chiamò fattori i fattori di Mendel sono chiamati alleli cioè geni che occupano la stessa posizione su due cromosomi omologhi i quali si separano durante la meiosi ogni allele controlla una delle varianti dello stesso carattere per esempio il colore del fiore che può essere bianco o rosso gli alleli sono rappresentati con le lettere le lettere maiuscole indicano la variante dominante del carattere le lettere minuscole indicano la variante recessiva dello stesso carattere gli alleli che determinano un carattere costituiscono il genotipo di un individuo mentre la caratteristica osservabile viene detta fenotipo ogni carattere è controllato da due alleli presenti su due cromosomi omologhi se i due alleli sono uguali l'individuo si dice omogigode se i due alleli sono diversi l'individuo è eterozigode la terza legge di Mendel chiamata legge dell'indipendenza dei caratteri nell'incrocio di individui che differiscono per più di un carattere le varianti di ciascun carattere sono ereditate in modo indipendente la terza legge di Mendel afferma che durante la formazione dei gameti geni diversi si distribuiscono in modo indipendente l'uno dall'altro dove si trova l'Africa si trova tra i due maggiori continenti Asia e America il territorio africano è attraversato dall'equatore perciò si sviluppa in parte nell'emisfero boreale in parte nell'emisfero australe l'Africa confina a nord con l'Europa separata dallo stretto di Gibraltar bagnata dal mare mediterraneo a nord est con l'Asia separata dal canale di Suez ed è bagnata dal Mar Russo a ovest è bagnata dall'oceano atlantico a est è bagnata dall'oceano indiano il clima l'Africa è a cavallo dell'equatore presenza caratteristiche fisiche molto specifiche climi caldi immensi altopiani ambienti naturali come il deserto la savana la foresta tropicale in Africa sono presenti tre fasce climatiche una fascia equatoriale dove troviamo la foresta pluviale due fasce con clima tropicale con ambienti diffusi come la savana la steppa e il deserto a nord incontriamo il deserto del Sahara e a sud quello del Calari due fasce di tipo temperato una mediterranea a nord e una a sud del continente nelle due fasce temperate troviamo i paesi maggiormente sviluppati come a nord Marocco Algeria Tunisia Libia ed Egitto a sud la Repubblica Sud Africana a est troviamo la Rift Valley che è una spaccatura naturale che parte dal Mon Zambico fino alla Siria è una zona sismica e vulcanica qui troviamo alcuni laghi tra i più profondi al mondo come Vittoria Kivu Alberto si trovano le vette più alte dell'Africa come il Ruenzori il Kilimanjaro il Kenya i principali fiumi sono il Nilo che è il fiume più lungo del mondo lo Zambesi Niger e il Congo nell'area centro nord del continente si trova il deserto del Sahara e a sud quello del Kalari e il Navim l'isola più estesa dell'Africa è il Madagascar che si trova a sud-est nell'oceano indiano lo sviluppo costiero è molto lineare l'Africa può essere suddivisa in tre regioni Africa sententrionale sub-sahariana meridionale la popolazione africana cresce con un ritmo impetuoso il grande numero di nascite determina una popolazione molto giovane l'economia la principale questione economica del continente africano è il contrasto tra l'abbondanza di risorse naturali e le condizioni di miseria è di gran parte della popolazione la distribuzione della ricchezza è squilibrata piccole fasce benestanti la maggior parte della popolazione africana con difficoltà ad accedere all'acqua che soffre la fame le guerre le malattie infettive le cattive condizioni igieniche la popolazione africana è in forte crescita e le metropoli sono in rapida espansione la composizione etnica è formata da oltre 3000 gruppi ma i due principali sono quello dei popoli dell'africa bianca a nord arabi quello dei popoli dell'africa nera a sud le lingue più diffuse nel continente sono l'arabo e le lingue dei colonizzatori europei inglese francese e portoghese l'islam è la religione più diffusa ma è presente anche il cristianesimo il motivo del mancato sviluppo è attribuito dal neocolonialismo dipendenza da stati escolonizzatori e dalle multinazionali straniere che sfruttano la mano d'opera e le materie prime il continente è insanguinato da conflitti che hanno motivazioni etniche religiose ed economiche tali conflitti sono alimentati da lotte per il controllo delle terre più fertili delle sue risorse minerarie e dell'acqua altri fattori sono l'instabilità politica la corruzione e le carestie possiamo dividere la storia dell'Africa in tre periodi uno una lunghissima fase iniziale che va dalla prestoria fino al quindicesimo secolo è l'epoca della storia africana prima dell'arrivo degli europei in questa storia ricordiamo i faraoni il commercio con i fenici i greci e i romani due periodo compreso tra il quindicesimo e la metà del ventesimo secolo che è caratterizzato dalla penetrazione della conquista e dalla dominazione coloniale dell'Africa da parte degli europei qui non c'è stato soltanto lo sfruttamento delle risorse africane ma non dobbiamo dimenticare il gigantesco e prolungato commercio di schiavi tre l'epoca più recente è invece nella seconda metà del ventesimo secolo con la decolonizzazione cioè la fine delle dominazioni coloniali europee sul continente africano questa è la fase più difficile perché i nuovi stati africani indipendenti devono creare la propria autonomia economica imperialismo si sviluppa tra il 1880 e il 1914 giustificato dalle teorie razziste come missione civilizzatrice si sviluppa in Asia e in Africa per conto di Inghilterra Francia Germania Olanda Belgio Russia e Italia però in minor parte ci sono ragioni politiche ed economiche le ragioni politiche miravano ad ottenere il consenso dei cittadini con orgoglio nazionale il favore dei grandi gruppi industriali che traevano vantaggi economici e il sostegno dei militari le ragioni economiche miravano a trovare materie prime conquistare nuovi mercati risolvere problemi di sovrappopolazione e disoccupazione le colonie erano di due tipi colonie di sfruttamento e colonie di popolamento le colonie di sfruttamento erano costituite da basi militari o commerciali le colonie di popolamento avevano vasti territori dove la popolazione della madre patria andava a vivere l'imperialismo si manifestò come una gara di potenza tra i paesi europei una vera e propria corsa per evitare che tutto sfocia in una guerra nel novembre 1884 venne convocata a Berlino la conferenza internazionale per gli affari africani che stabilì gli europei si spartirono nel continente nero secondo il principio della zona di influenza l'occupazione di un tratto di costa dava il diritto anche alla conquista dell'entroterra prima di avviare una conquista di un determinato territorio lo stato doveva comunicarlo agli altri stati la parte di africa che aspettava gli europei nel 1914 furono la liberia e l'etiopia i confini tra una colonna e l'altra vengono tracciati arbitrariamente la conquista europea dell'africa venne giustificata come una missione civilizzatrice ebbe caratteri di violenza rapide e sfruttamento i territori furono saccheggiati alla ricerca delle materie prime le coltivazioni locali furono distrutte e si avvierano per far posto alle monoculture cioè grandi piantazioni di prodotti che servivano per i mercati europei le popolazioni locali vennero ridotti in schiavitù la supremazia inglese in Africa Gran Bretagna era la principale potenza maritma mondiale possedeva l'impero coloniale più vasto del mondo che comprendeva l'India e la Cina il dominio inglese in India comincia già nel 700 ed era divisa in oltre 500 stati rivali e diversi tra di loro per lingua religione e per società la società era divisa in caste chiuse in alto al vertice c'era la casta dei bramini cioè i sacertoti alla base i paria cioè gli intoccabili a quali toccavano i lavori più umili le donne anche quelle di classe sociale maggiore non avevano nessun diritto ed erano sottomessi all'autorità a metà dell'Ottocento l'Inghilterra fonda una compagnia commerciale privata la compagnia inglese delle Indie orientali che sfruttò il territorio e le sue ricchezze in modo brutale distruggendo l'economia locale al posto delle coltivazioni tradizionali gli inglesi introdussero la monocoltura quindi piantagioni di tè e di cotone esportarono in India beni e alimenti in questo modo l'India si trova in una condizione totale di dipendenza economica dall'Inghilterra nel 1876 la regina Vittoria viene proclamata imperatrice dell'India che diventa la perla dell'impero britannico costruirono strade e ferrovie costruirono edifici in sile vittoriano mantenevano le abitudini e passatempi della madrepatria per esempio il tè alle 5 sfruttarono gli indiani come dei certi la popolazione locale fu del tutto sottomessa agli inglesi gli inglesi arrivano pure in Cina il commercio cinese aveva chiuso le influenze straniere mentre l'Europa importava molte merci dalla Cina in particolare porcellane e tè dopo gli inglesi cominciarono a esportare illegalmente l'oppio cioè una droga ricavata dal papavero in Cina questo crea una vera e propria emergenza sociale scoppia la guerra dell'oppio e alle provocazioni inglesi l'impero cinese reagisce con forza ma viene battuto dagli inglesi così la Cina dovette fermare una serie di trattati svantaggiosi pagare danni di guerra consentire libero commercio la Cina divenne così una colonia economica europea indipendente gli intellettuali nazionalisti cinesi diedero vita alla rivolta dei bozzer allo scopo di cazzare gli stranieri dal paese ma la ribellione fu repressa dalle forze europee alleate tra di loro i cinesi vennero nuovamente battuti diventando una colonia europea in particolare l'Inghilterra ottenne l'importante porto di Hong Kong l'apertura dei mercati agli europei causò numerose proteste e ci fu una grande rivolta nel 1911 i rivoluzionari dichiararono decaduto l'ultimo imperatore della dinastia Manchu e fondarono la Repubblica nella seconda metà dell'ottocento il progresso scientifico e tecnologico portò alla crescita dell'Europa quest'epoca felice venne caratterizzata da un'atmosfera di ottimismo e di fiducia nel futuro che caratterizzò gli anni dal 1870 al 1914 e prese il nome di Belle Epoque si affermò una società di massa con massa si indica un esteso gruppo di individui che agiscono tutti nella stessa direzione e l'industrializzazione crescente favorì la formazione delle masse operai la maggior disponibilità di servizi e di beni a buon mercato creò le masse dei consumatori l'estensione del diritto di voto a numero maggiore di cittadini formula le masse degli elettori i mezzi di comunicazione diventarono fondamentali per influenzare le masse e nacquero le prime forme di pubblicità esulto dalla felicità che l'anno sta finendo mentre scrivo queste parole vivo una strana emozione dovuta forse alla mancanza di ferro forse quella sensazione strana che definiscono groppa la gola il mio corpo si scioglie e la felicità della fine non è più un sorriso sulla mia faccia le mie mani si poggiano sulle ginocchia la faccia cupa si piega verso il basso gli occhi si riempiono di lacrime cosa sta succedendo perché mi sento così ricordo lo zaino del primo giorno di scuola con dentro una penna un quaderno e tante speranze ma molto molto leggero oggi quello stesso zaino è pieno di ricordi vittorie e sconfitte umiliazioni e gratificazioni amore e odio felicità e tristezza e tantissima esperienza si cresce insieme tra alti e bassi in una convivenza forzata che ci costringe a viverci non per un giorno una settimana ma per tre lunghissimi anni non ci può far finta ignorare bisogna trovare delle strategie che rendano la convivenza un percorso di vita sono giunta alla fine ora siamo sicuri che dopo una fine ci sia un nuovo inizio quello zaino lo porterò dietro e mi supporterà ogni qualvolta rischierò di cadere mi rialzerà e tenendomi stretta mi sussurrerà eccezionale come tutti speciale solo per chi ha saputo conoscerti davvero